Arcellone, buongiorno, un abbraccio a te, ai tuoi ospiti, in studio agli amici juventinazzi di Top Land, Dinamo Zagavia 0, Juventus 4, finalmente una vittoria larga, senza cardiopalma, a me la Juve è piaciuta più sul piano dell'intensità, della cattiveria, della mentalità, che sul piano del gioco, quindi questo è il giusto atteggiamento, sinceramente la Dinamo Zagavia mi è parsa poca cosa, però già dalla prossima partita scopriremo se questa vittoria è stata il frutto dei nostri meriti o dei demeriti degli avversari, quindi bisogna andare ad Empoli con lo stesso atteggiamento visto in Croazia e bisogna soprattutto vincere prima della sosta, non sarà una partita facile, però Marcello noi siamo la Juve e quindi dobbiamo vincere, non voglio affrontare molti argomenti perché se no giustamente voi non potrete rispondermi, quindi io mi voglio soffermare su quell'argomento che purtroppo mi ha lasciato un nodo alla gola, e cioè il centrocampo, come già dissi per me Hernanes è il migliore nel sostituire Marchese, nel giocare come regista davanti alla difesa, purtroppo ci siamo ridotti a questo, però anche in Croazio ha fatto una partita ordinata senza strafare, e secondo me è più adatto sia di Pjanic che di Lemina in attesa che rientri Marchesio. Io solitamente sono d'accordo con le vostre tesi, però sulla questione centrocampo non sono d'accordo con voi quando giustificate un po' troppo la divigenza nel dire che non ha colpe per aver smantellato un grande centrocampo, quello che avevamo un anno e mezzo fa. Vi spiego anche il perché, Piblo giustamente ha raggiunto i limiti di età e ha fatto la scelta di andare in America, la Juve non ha colpa, Marchese è infortunato e la Juve non ha colpa. Vidal è stato ceduto, voi dite che doveva andare per forza via, che ha voluto andare via, benissimo, però secondo me è stato venduto un po' a prezzo non adeguato, e non è stato sostituito degnamente perché Chetiva sia un ottimo giocatore però non dà garanzie dal punto di vista fisico. Pogba, se è vero, come dice Marotta, che i giocatori che vogliono andare via devono essere accontentati, però il discorso è questo, non è che tutti i calciatori che manifestano volontà di andare via bisogna accontentarli con troppa facilità, se si trova prima il sostituto si accontentano, se no pazienza, si aspetta come si fece all'epoca con Zidane, quindi a me io questo contesto a Marotta che ha venduto con troppa facilità a preoccupare, si diceva prima al procuratore dobbiamo avere la certezza di prendere Madrid e poi dopo ti diamo la possibilità di vendere un po' come ha fatto lo Zenith con noi, Marcello, sì, noi vizze te lo vogliamo dare, però dobbiamo trovare prima il sostituto, non l'hanno trovato e si sono tenuti vizze, questa è la mentalità di una società che vuole vincere la Champions, bene, con questo vi saluto, da Napoli è tutto, fino alla fine, Forza Juventus, Siammià, Ciao!